Chiudiamo con questa notizia anche la seconda edizione del nostro telegiornale. Ora spazio al buon umore perché come ogni mercoledì è il momento di induccio e delle sue chiacchiere del mattino. Buon mercoledì, buona giornata, buongiorno Regione. Chiacchiere di cantina, il contro. Il vino traina l'export nel 2014 dei record. Abruzzo in crescita, la col di Retti, il migliore biglietto per l'expo. Vedi, i politici spesso parlano l'export, l'export, l'export ad acta piena. Perché quando l'export stanno pieno vuol dire che hanno fatto la spesa. Come si dice? Faccio un miracolo una botte piena di vino che una chiesa piena di santi. Al col test nullo, meno male, senza il diritto di farsi assistere dal legale. La gente, l'apostrofa gente, deve avvisare il conducente che può chiamare l'avvocato, capito? E mo? Eh. Quando i carabinieri ci dicono adesso ci confi il palloncino? Tu puoi rispondere, guardi un momento chiamare l'avvocato però sta in vacanza a Cuba. Appena ritorno le confiamo tutto quello che vuoi. Guardia Grele, pane alla cannabis, manifesti 6x3 per pubblicizzare il nuovo prodotto. Fa bene alla salute. Si tratta di pane confezionato con farina di cannabis sativa. Farina? Eh. Canna? Eh. Ma dove si piglia? Eh, dove si piglia? A fianco lo spaccio. Lo spaccio del tabaccaio. A fianco ci sta il forno, capito? Ma la cannabis non è proibita? A fumarla, a mangiarla, no. Tu vai al forno e gli dici mi dai due filoncini di cannabis e le metto dentro la busta. No, me la rotoli a una cartina. Ecco. HP News, Montesilvano, via libera all'affitto di poltrona cabina per parrucchieri ed estetisti. Beh, è una bella novità questa. Si può affittare la cabina doccia? No. Si possono affittare le poltrone? No, sono le cabine poltrone dei parrucchieri ed estetisti. Ah, io avevo capito che... Eh, lo so, lo so. Tra te Montesilvani oppure ho pensato il box secco, questa è una cosa seria. Prima o poi, città Sant'Angelo, a piano di sacco, allarme, cattivo odore. Occorre una centralina alta, cittadini allarmati, sindaco, prenda provvedimento. Mamma mia, che è sta puzza? No, qui dentro. No, gli ha la notizia, che è sta puzza? Sono i CSS. Ah, ci stanno i CSS? No, i CSS sono combustibili, solidi, secondari. Tu quando senti una puzza, si curgi sta in un CSS. Il contro, terrore in Abruzzo. Notizie in fuga danno l'ISIS a Guardia Grele. L'annuncio appare confuso con il dolce tipico, l'ISIS delle monache. Oh, madonna mia. Eh. L'ISIS è arrivato in Abruzzo. E che da voi, dal 1886. L'ISIS si chiama così perché nessuno l'ha visto mai dal vivo, capito? L'ISIS. No, l'ISIS delle monache. Capito? Comunque, siccome si è fatto tardi, ringraziamo i nostri sponsor. La macelleria di Zipeppe, mi ricordo quanto è buona la trip. E poi, da Bruno, il contadino, un nerape, è una rapina. Costa cara. No, è una rapina dolce, delicata, un burro. Ciao, Costa cara. Ritroveremo un duccio la prossima settimana, sempre di mercoledì. E ora vediamo quali sono i principali appuntamenti previsti oggi in Abruzzo. I nostri consigli per il tempo libero.